Noi siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pannolini, avere un uomo che fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di far quadrare ogni mese il bilancio familiare, lavare e cucire, pulire e cucinare, per chi sostiene, che ci mantiene. Noi siamo stufe della pubblicità che deforma la nostra realtà, questa moderna schiavitù da oggi in poi non l'accettiamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, puttaneo, sante, venire classificate. Basta con la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità. Ci han diviso tra brutte e belle, ma tra di noi siamo tutte sorelle. Fra di noi non c'è distinzione, all'uomo serve la divisione. Noi siamo stufe di abortire, ogni volta col rischio di morire. Il nostro corpo ci appartiene per tutto questo, lottiamo insieme. Ci dicono sempre di sopportare, ma da oggi noi vogliamo lottare. Per la nostra liberazione, facciamo donne la rivoluzione. Facciamo donne la rivoluzione.